Stefano Catena si resta in Serie 2 però si cambia squadra, questa volta si va in Puglia all'avventura con il New Real Gioia Volley. Che cosa ti aspetti da questa nuova avventura e intanto com'è arrivata la chiamata di questa squadra? La chiamata è arrivata un po' all'improvviso e l'abbiamo accettato nel giro di mezza giornata proprio insieme al mio procuratore. Non me l'aspettavi? No, non me l'aspettavo per niente, anzi un po' mi preoccupavo anche. Comunque è arrivata la chiamata, mi ha detto subito che l'allenatore era Sandro Pasto con il quale ho condiviso casa lo scorso anno e c'è un buon rapporto di amicizia. E poi comunque Gioia del Corre è una società che sia quando ci ha giocato contro che a giocare nel palazzetto comunque c'è una verissima impressione come tifo, come palazzetto, mi hanno parlato anche bene Gioia del Corre. Ed è anche una squadra ambiziosa perché lo scorso anno da neopromossa è arrivata in semifinale dei play-off, quindi insomma si fa un passettino in avanti forse per quanto riguarda la carriera di Stefano Cadena? Io penso di sì, spero di sì, comunque speriamo, penso di fare meglio dello scorso anno anche se non so gli obiettivi al momento, però spero che il pubblico ci dia quella spinta in più per arrivare ancora un passettino in avanti rispetto allo scorso anno. Stefano, l'obiettivo personale intanto è quello di guadagnarsi il posto perché insomma la campagna acquisti sarà importante da parte della tua nuova squadra, quindi insomma dovrai intanto sgomitare per prenderti il posto da titolare. Eh sì, sicuramente ci sarà da lottare per un posto, spero di riuscire a guadagnarmelo e farò di tutto in allenamento per convincere Sandro a farmi giocare. Lo scorso anno era secondo allenatore, con lui si è creato un bel rapporto sia perché condividevo casa insieme a lui, era un altro ragazzo, sia perché comunque negli allenamenti Pasquale, Bosco si teneva un po' più i titolari, lui ci gestiva più a noi, quindi già un rapporto tra Roma e allenatore ce l'abbiamo avuto. È troppo Stefano pensare ad una possibilità di un ulteriore salto di categoria? Non so proprio, non vorrei neanche di qualcosa di troppo grosso, quindi uno ci spera, faremo un massimo penso per raggiungerlo, però non so l'obiettivo qual è.